Scusa sonnifero, lo sputacchio Ci dobbiamo provare, ci dobbiamo provare, ci dobbiamo provare, ci dobbiamo provare, dai Dormi, ok, adesso speriamo che è sciotta, che non ne so sicuro Bentornati in Abbinabbi su Tubo Nubo, qui siamo Trizzo E Trizz Siamo per entrare alla Vandonia, quindi ci dirigiamo verso Sud Ed eccolo qui il cambio di musica Oh mamma mia, questa era quella che metteva ansissima E già, succede roba Oh no, il povero Cubone Ma quello è Cubone C'è Frappo E la torre E non si che fai sì No, tu perché sei apparso? Ok, ci siamo, andiamo a vedere la torre E questa bambina? Io però volevo andare Parla con la bambina allora Mamma mia Ma che? Ah ecco perché c'era qualcosa che non mi tornava Stavo tenendo malissimo la Pokéball Ok Non si fa rumore nella torre Pokémon, me l'ho detto la mamma Inquedantissimo, aspetta noi ci dobbiamo curare i Pokémon però No, è vero L'abbiamo un bel po' utilizzati Sì sì, almeno tra un percorso e l'altro Ah adesso, la torre Pokémon Noi non credo possiamo visitarla tutta in questo momento C'era la... che era la leggenda metropolitana per cui si diceva che la musichetta di Lavandonia faceva diventare matti Sì sì sì, infatti ne ha parlato pure Frappo nella sua serie Tra l'altro l'edizione quella giapponese di Pokémon verde e rosso Già quella americana non c'era la musichetta originale Era semplicemente molto disturbante Andiamo alla torre Andiamo alla torre Andiamo alla torre Sali Io ho paura Lo so, i brutti incontri, nessuno li vuole fare Però purtroppo Frappo ce l'abbiamo Madonna che strane stelati Eh, lo so Ovviamente la torre Pokémon per chi non lo sapesse È il cimitero per i Pokémon È il cimitero dei Pokémon Eccoli qua, i brutti incontri che si fanno Mamma mia Marta Frappo Che là, che sorpresa Trizzo Che ci fai qui? Non mi dici che? È successo Porca troia, che gufo di merda No, ho capito, te vedo un cimitero pure lui Sì, ma l'ultima volta che ci siamo lasciati Sembrava così che ci voleva uccidere nel sonno Capito? Ora ce la tira così Beh, allora approfittiamo di Trizzo Fammi vedere quanto sono in salute i tuoi Pokémon Così almeno se te li uccido stai subito qua, capito? Te fai la lapida, la lapida rapida Sembrava così quello il senso Ok, Frappo che è un allenatore E il G8 Oh no, noi ci abbiamo fatto in davanti No, noi ci abbiamo moriti No, abbiamo moriti Siamo svantaggiati Eh, ho capito, però Vabbè, cambiamo, dai Mettiamo? Mushu No, una bot No, era solo per fargli prendere esperienza Per fargli prendere botte è più che esperienza Vai, Riri Ben fatto, Riri Ben fatto, Riri Ok Hai fatto tantissimo Turbo sabbia E vabbè, dai Ma io ci posso andare di mostro speciale Vai Proprio perché Frappo io ti voglio bene Quindi naturalmente Bam Mamma mia Neanche la vedi calare l'Aida, capito? Lo vedi già morto? Esatto Cambia semplicemente colore Da verde passa a nero e va Ok Vediamo come risponde adesso lui Vai Frappo, facci vedere che altro Gloom Ah, per Gloom ci abbiamo però Mushu Mushu, dai Mushu, a questo punto fai No, ho sbagliato Mushu, a questo punto fai qualcosa Mushu, pensaci tu Adesso si muore Adesso come stai messo figo Siamo un allenatore molto swag Usa sonnifero Lo sputacchio No Mamma mia Vabbè, proviamoci, dai Eh Dai, dai Proviamo questo lanciafiamme Proviamo il lanciafiamme, vediamo Eh, ma Mushu dorme Almeno un turno dorme, sicuro Acido Va bene, acido Dovrebbe essere Mamma mia Ci dobbiamo provare Ci dobbiamo provare Ci dobbiamo provare Ci dobbiamo provare, dai Svegliati Svegliati Su Dorma Mushu Svegliati pigrone Ok Ok, un altro lo reggiamo Quindi proviamoci Ci proviamo, dai Di nuovo Niente Tre turni, oh Tre turni Dai Non fare brutto colpo Ok Ok Mushu, l'ultimo d'occasione È l'ultimo d'occasione Mushu Svegliati Cazzo Ok Adesso speriamo che è sciotta Che non ne so sicuro Nooo Addio Mushu È stato bello E vabbè Vabbè ma Quello dormiva Però Perché non prende esperienza Vabbè Capita A meno che non utilizziamo Il revitalizzante No Vabbè Filippo Filippo Miss spillo di Filippo Farà la differenza Signori Miss spillo Prima colpiva Prima colpiva soltanto Due volte Adesso colpisce Ancora di più Andiamo Mamma mia È velocissimo Vai Ti prende da tutte le parti Riprendiamo Di nuovo? Non bastava La scorsa volta Che Non hai visto? Eh Dio santo Cioè non voglio ripassare di nuovo Una Una puntata Tutta quanta A sentirmi Dei che fai doppi sensi Se te che sei maliziosa Non sono io che sono maliziosa Oltraggio Cazzo Imparo oltraggio sta cosa Vai Imparo oltraggio Cos'è oltraggio? Mossa di tipo drago Drago Quindi leveriamo Botte in testa Ok E che cosa fa? Fa quello che fa Pedalo Danza Cioè è un attacco molto forte Soltanto che dopo Lo devi usare Per forza due turni Dopodiché ti confonde Ah ok Quindi dice Direi Che Oh Jolteon L'ha fatta evolvere Oh Io direi Andiamo di oltraggio Andiamo di oltraggio Mi fa mosto oltraggio Voglio vedere Voglio vedere un Beedrill Che fa oltraggio Sono shock Va bene L'ha fatta evolvere In Jolteon E se in cazzo Guardalo Boom Frappo Mi hai veramente Sorpreso Così ha mantenuto Il tipo elettro Nella squadra Capito Perché d'altra parte Avrei babuto Pikachu No Va bene Va bene Ma te sei oltraggiato Non puoi Confonde pure Capito Porca puttana Adesso Te ti rioltraggi Ti devi Rioltraggiare E nonostante Nonostante la paralisi Nonostante la confusione Nonostante il quale shock Io voglio vedere Quell'oltraggio Che va a buon fine Ok se lo facciamo da soli Filippo è confuso Non può agire Un altro turno Un altro turno Ve lo dobbiamo Un altro turno Un altro oltraggio Esatto Un altro turno Lo dobbiamo Questo Jolteon Doveva morire di oltraggio E morirà di oltraggio Non muore brutto colpo Vai Dai Filippo è confuso Niente Capito Tre turni su tre Filippo Porca cazzo Si meriterebbe di morir Filippo Ho capito Non abbiamo già crepato Cambio Cambio Però se meriterebbe di morire Madin Da questo punto Faremo i cattivi E distruggeremo quel Jolteon Con il nostro Pokémon di poterra Noi Drizzo Come si è alterato Pazzo Sì Ci abbiamo avuto sfiga Effettivamente Oh Adesso ne scaviamo E andiamo sotto Andiamo sotto Capito Ci fa attacco rapido Ma noi ce ne rega Che ci fa attacco rapido Perché noi siamo Ci ha tolto due punti vita Ci ha tolto Capito È la regina di questo scontro Cioè noi Potevamo vincere questo scontro Il fatto è che noi Frappolo avremmo Tranquillamente Disintegrato Tranquillamente Se avessimo deciso di giocare Con i nostri Pokémon più forti Ovviamente abbiamo deciso Di sperimentare No ma Ci ha fatto rosicare Ci ha fatto rosicare Però ci ha detto anche sfiga Perché Cioè Cavolo Muscio che dorme per tre turni E Lui Paralizzato per tre turni Filippo paralizzato per tre turni Cioè Sono in forma anche troppo Mamma mia Frappo Cioè Oh no La nostra lotta ha spaventato Cubone L'abbiamo fatto scappare Cubone Dai chiamano Cubone Ti prego Sei un coglione Lui c'è presente Cubone Porta un teschio sulla testa Sembrava che stesse cercando qualcosa Che si sia rifugiato Su uno dei piani superiori Agita Vediamo che succede Guarda Con voglia di lottare Frappo Lo so Con voglia di lottare di nuovo Di nuovo Vabbè Vabbè Ah perché l'abbiamo messo in campo Quando l'abbiamo messo in campo Adesso abbiamo Abbiamo fatto massacrare Il pg8 Ah già è vero Attacco x Che non serve a niente Revitalizziamo Cosa Ma allora guarda Io ti dirò Che per il momento È inutile che ci facciamo Questa torre pokemon Quindi saliamo su Ah no C'è una Una cosa Quindi Sì dai Revitalizziamo Tasca rimedi Dove sta Scusa mia Sennò dobbiamo tornare indietro E usa Dal centro pokemon Vabbè Arrivati Revitalizziamo Sennò smettere di prendere esperienza Vai su super pozione Poi E ne dai una Una Anzi Lascia così Quanto lui Non lo metteremo in campo Ok Andiamo a sconfiggere questa cosa Sì o guarda c'è uno strumento sotto Non dimentichiamocelo Dai Scorci Ah ok Vorrei tutto tanto sapere Perché hanno scelto Proprio una Come me Per gestire La torre pokemon Che so stronzi Vuoi lottazzare con me Va bene Ma ti ti avviso Faccio sul serio Allora Sembro raptor La lega pokemon L'ente lega pokemon Che gestisce anche i coach Evidentemente È proprio stronza Stavvero E sarebbe Cioè Anche io Avrei paura Ha un geodude E noi abbiamo Lei Mi dispiace Io ti dico una cosa Dai da la udanza Tanto c'è soltanto Uh frana Mazza è veloce Aspetta Ok 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 Se continua a farci È più veloce Se continua a farci Tentennare Siamo finiti Dobbiamo proprio Petalo danza E dobbiamo distruggerlo Dobbiamo essere sicuri Che la volta Che non ci fa Tentennare Petalo danza Ok è morto È super efficace È bene così Yey Sciogaro Bisogna diventare Ritogliere Il Il Coso Il paralizzato Vabbè Lottare con te Cinque Ah ma io penso Mi davi frana Che merda Così Vabbè 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 Sì sono Peziosi Ok saliamo Sì io ci ho provato Niente io sono sempre storta Nel camminare Oh Cinematica Frappo Che Uman Che Uman Dove sei Ok Accidenti Dove si sarà cacciato Se continui a stare Solo sul tuo posto Cioè Ho visto È quello Cos'è Ma sei brutto Ma è un fan 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 di Pokemon Pure lui È un fantasma Aiuto E infatti se ne va Via Fattene via Kyubon 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 Non ti vuole proprio bene Nessuno ti vuole bene Kyubon Infatti Ma non rimani con noi Kyubon Se ne va tutto Maggio Povero Oggi da Che cosa vuoi Muoi terrorizzato Che carino Allora è sbaventato a causa dell'atmosfera sinistra Ok Adesso No Ti aspetta Ecco Adesso Va bene Ok Vattene via Ok Siamo ripartiti da capo Ok Quindi siccome tanto non possiamo sconfiggere nessuno No Fino a che non abbiamo Cambiamo strategia Andiamo a trovare quella spettrosonda Ok Allora Squadra curata Abbiamo bisogno di andare a trovare quella spettrosonda Eh ma prima Jesse Siamo arrivati fin qui L'avandonia su ordine di Giovanni Ma di questo Mr. Fuji non c'è nemmeno l'ombra L'unico posto in cui non abbiamo cercato in cima la torre Pokémon È vero C'erano quegli strani spettri che non siamo riusciti a salire fino in cima Oh Kyubon Che carino Visto che abbiamo trovato Visto che non abbiamo trovato Mr. Fuji Tatturiamo almeno questo Kyubon Guarda pare che James c'ha le tette È vero Così non torniamo a rifugio Non rifugiamo le ruote Ottima idea Dai Torniamo alla sala giocchi rocket di Azzurropoli Ok Anche qua ci vedono un pochino Esatto La tua mamma si trova ad Azzurropoli Vieni con noi Ti portiamo da lei Oh Gli mentono in questo modo Dai sbrighiamoci Ok Ok qua naturalmente ci hanno dato l'indizio di dove andare Ho appena assistito a una cosa erribile Ma non hai fatto niente Chi sei Anna Baker Ok parla con quel tizio Ah ok Hai visto anche tu il team rocket ha rapito Kyubon Veramente sei andato di sua spontanea Dicevo che sarebbero andati ad Azzurropoli Vabbè l'hanno imbrogliato però Forse vogliono rubare il tesco che indossa sulla testa e venderlo So che vale un sacco Eh vabbè Vabbè Allora noi li seguiamo Li seguiamo Li andiamo a salvare Percorso 8 Bellezza Qual è quel pokemon che tondo e morbido Jigglypuff Eh beh Che feri Ma non è tondo Beh oddio Vabbè è tondeggiante Ok va bene Noi qua andremo di forza bruta Dai Foglia lama Andiamo Metronomo Oh può stare qualsiasi mostra del gioco E userà Meditazione Bene Si potenzia Ma non ci arriverai al prossimo turno Mi dispiace Oh dobbiamo rimettere l'uscio davanti Magari facciamo fare qualche livello Prima di Erika Sì È il caso magari Tanto l'abbiamo curato Perché Mushiu c'era andato un po' male Ci aveva preso un po' le pizze la scorsa volta Ok C'abbiamo un altro rischia tutto Uh Te l'ho già detto che mi ricorda te questo tizio Basta Perché non ti fai crescere la barba Perché sennò poi rischi Rischia diventare un rischia tutto Allora lui dovrebbe prendere Seeking Sicuramente proverà a fare Che è per Forcorno La mossa che mette Capose Stai a livello inferiore al suo E noi stiamo a livello inferiore al suo? Probabilmente Oh mio dio Un 35 Vai Pokémon cambia Dobbiamo provare a mettere Riri E sperare che non ci colpisca Perché comunque non c'è al 100% di precisione Nella mossa E se non ci colpisce L'uccideremo poi Ok 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 Petro Danza Petro Danza Andiamo di cattiveria super cattiva Beh No Ti prego no? Ok Va bene E lui è qua Per la danza per forza E quindi Perché lui capito Rischia tutto Perché c'è un Pokémon livello Altissimo per il percorso dove si trova Ha soltanto la mossa Che c'ha pochissima percentuale di colpi Rimassa E colpisce Uccide E quindi E quindi Rischia tutto Ah che figata questa cosa Comunque Quanto era brutto Il primo gioco di Pokémon Dove I cervelloni Erano tutti quanti Nerd bruttissimi Mushu Come stavo dicendo Mesh Spara quel lanciafiamme E vediamo che succede Verità fossa è super efficace Non è che qui sono tanto belli No no Ma perché sono rifatti da quelli là Però è scottato Speriamo adesso che non esplode Mushu Mushu Vabbè coraccio Non è colpa sua Eh Cioè I cervelloni erano fatti così Tutti brutti I fanatici di Pokémon Ma sei vado di botta in testa? Non vai Botta in testa Se fallisce Botta in testa Beh Ah E' così incastrato il gioco I Pokéfanatici Che potremmo essere I fan dei Pokémon Sono fatti po' deficienti Con la cosa del Slowpoke Quindi grande rispetto Per il target medio del gioco Vabbè Oggetto Oggetto Lucida X Che non useremo mai Cioè almeno io Sì no Le stiamo vendendo Io le sto vendendo Mentre non guardo Io vendo tutto E questo dice chi è? Elettricista Ah già Quindi c'è Pokémon elettrico Tecnico del suono Si dovrebbe avere Tecnico del suono Pokémon elettrici Perché È un elettrico del suono No È un tecnico Tecnico del suono È un elettrico del suono Cos'è un tecnico? Non ha senso E qua ci conviene cambiare Perché Anushu ce la prende Doppio calcio Doppio calcio Mamma mia Quanto ci sta facendo Abbiamo di fossa Distruggiamolo Dai No Per quanto comunque Distruggere Jolt Di nuovo Beh è più veloce Almeno quello Lascia Capito ma noi Non abbiamo Ah beh no Perché abbiamo cambiato Il Pokémon Sì Per quanto distruggere Jolt E non mi faccia male Al cuore effettivamente Tanto Agilità Che Vabbè Dobbiamo inventare La velocità però Non l'elusione Non ci fa nulla Oh Ciao Distrutto Andiamo di pendente Che lo chiamiamo pendente Invece che taglio Beh proprio per cambiare Di nome Tanti Growlite Un Jigglypuff Ma ci sta anche una tizia Con cui trottare C'è Un oggetto Che però Vorrei riuscire a prendere Pietra fogaglia Ok Ehi Non mi disturbare Veramente C'hai chiamato te Lei si era chiusa qua Ha fatto pure Crescere le piante Perché non vuole essere Scocciata Invece noi abbiamo Distrutto Cadabra Gli abbiamo distrutto Tutti i piani Sì Ci abbiamo morto Di lui? No mi sa di no Ce l'abbiamo Di Matilda Io forse Comunque proverei Di andare di fossa No ma perché Boh Vabbè Proviamoci Alle brutte muore Dai Eh certo Flash Che fa Flash? Scala la precisione Mi sa di molto però No solo di uno Ok Ok adesso deve colpire Se colpisce Dovremmo fargli Abbastanza male Vediamo lui che fa Si coraggio Vabbè meglio Flash Si coraggio Io rifarei Ci riproviamo Mi ha dato Metà vita Vabbè Questo pure Rituriamo Porca troppo C'è pure Confuso Dai Mo siamo bloccati Su una mossa A due strati E se colpiamo Pure da soli Dobbiamo cambiare Mushu Vabbè Mushu Mushu Ci stai un po' Diludendo Andiamo di C'ha morso Si c'ha morso Ma è debole Eh vabbè Anche Matilda Scoprirà Cosa significa Morire Sì Siamo comunque Al 34 Cioè Non ci fa così male Si ma adesso Te fa morso Se lui è più veloce Ha vinto Porca trota Porca trota Ops Andiamo di Filippo Filippo forse è più veloce Anche Filippo è debole Perché è veleno Però se è più veloce Il Missy Spillo Lo distrugge Perché con le Orther Invece è forte Contro Psico Non siamo più veloci Porca trota Vai Filippo Leggica però Ok La regge Missy Spillo Un solo colpo Però niente Ne potrà fare fine a 5 Eh vabbè È vero pure che stava A metà vita Ok Macho Oh ce n'erano altri Macho come è? Io ti direi di cambiare E mettere l'accio qui Ok Mamma mia ragazzi Io faccio un nuovo schifo Eh c'è la frana Come cover E quindi? E quindi Ci ha fatto male Sì Ma noi? Noi ci abbiamo beccata In verità Che però leva pochissimo In mossa Vediamo quanto li leviamo Ok Lui riutilizzerà frana Quindi noi dobbiamo perdere Il tipo volante Dobbiamo rigurarci vita Andiamo di 3 spolo Ah ok Andiamo di 3 spolo Perdiamo Siamo più veloci Quindi perdiamo Il tipo volante Usando 3 spolo Perché ci appoggiamo a terra Ah Prendiamo metà vita Quindi se lui ci rifà frana Noi dovremmo stare a pochino Dovremmo prendere meno danni Ok Adesso un'altra frana La leggiamo Quindi possiamo fare Un'altra beccata Un'altro 3 spolo Ok Andare avanti così praticamente Andare avanti così Sì Buono Ok Beh ma lo sapevamo Che finiva così Adesso dobbiamo fare 3 spolo Se lui rimane su frana La vinciamo Se lui ci farà Naturalmente Perché qua il problema Che noi essendo volanti normali Se lui adesso Se ne uscisse Con un colpo Di polotta Ci distruggerebbe Invece no Lui rimane su frana Ok Lascia è stato bravissimo Sì Andiamo di beccata Beccata Perfetto Non male questa Nella di ricerca Se non c'è due pokemon Che potrebbe fare evolvere Con lo scambio Sarebbe un bel team Per avere solo due pokemon Sì Forse sono stati Di disturbare Menova che te ne sei accorta 5 ultra ball Buono Buono Direi che Devo andare a curare La mia Ascoltà In basso No 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 Rischia tutto Sì però Rischia tutto Pericolosissimo Per noi Perché ci abbiamo No è vero Mushu Il dado e tratto Mettici un pokemon D'erba Sì Ma Tristan Riorno Perfetto Che siamo pure Svantaggiatissimi Niente Dobbiamo ripiegare Dobbiamo ripiegare Niente I pokemon Fuoco Comunque Sono veramente Svantaggiati Contro Riri Per forse Che prende 4 per E basta anche Il foglio lama Per farlo fuori Riorno Roccia Terra La maggior parte Dei pokemon Tipo roccia Sono anche Terra Ci ha preso Ci ha preso Incredibile Nonno Resiste Per fare bene Allora questa qui È un'imbrogliata Cioè almeno qua Lo dovevano levare Questa cosa qui Vabbè Noi Fariamo foglie lama Vabbè Oh È un rischiadutto Oh L'ha retto Cazzarola però Vabbè Se lo meritava Se lo meritava Sì È un colpo da K Ha preso 2 su 2 Parcazzozza davvero Matilda No se vecchi pure 3 su 3 però Cioè Vabbè Comincia a essere Non rischia tutto Comincia a avere un muso Matilda era più veloce Quindi è pure veloce Questo lodo qui Niente Quindi dobbiamo fare Breccia Vai Matilda No Matilda è diventata più veloce Improvvisamente Vabbè Io direi Fai il giro Vado a prendere Quel Sì sì Prendiamo subito L'oggettino Uh Ha trovato qualcosa No Ne sono accorta tardi Vabbè Andiamo Andiamo a vedere Forse Lo ritrovo Gira Eh Cioè io devo passare In mezzo a queste due tizie Per farmi Per farti cosa Per farmi Le delizie No Ho capito Io ci provo Per farmi sfidare Musho 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 Puoi fare così Vai Passare in mezzo alle due tizie Niente Ci devi parlare Neo è tanto carino Adesso Semmo perde pure Contro il gatto Semmo perde pure Contro il gatto Finneggia Uh Tre sfogo non c'ha Ok Lancia fiamme Cerchiamo di polverizzarlo Giorno di paga Vabbè Almeno prendiamo più soldi Ok Non leva neanche troppissimo Dai Ok 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 Qua ci sei piaciuto Possiamo Possiamo rimanere dentro Con Musho Almeno per il momento Vediamo il secondo pokemon Che ci manda Di numero Ma tutti meno Se fa soggiorni paga Però guarda Questo qua sta a livello 25 Bruciapero Eh vabbè Bruciapero Priorità Ci hai fatto intennare Abbiamo perso un turno Dai Vado di nuovo di lancia fiamme? Eh sì per forza Dobbiamo sperare che gli shotta tutti Spuriati Guarda Guarda Tra tutti Quattro Quasi Sì Ok Ok Adesso il prossimo Il problema che se entra Fa bruciapelo E poi ci fa Spuriate Possiamo curarlo Sì 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 Diamo una pozione adesso Così La pozione non viene interrotta Da bruciapelo Vai Borsa Lo curiamo Super pozione Ok Ok Torniamo full Bruciapelo Bruciapelo Plotta Purtroppo sono più veloci Lancia fiamme Ma una volta che noi li prendiamo Spuriate Eh ti avevo detto Bruciapelo spuriato Due Tre Ok Lancia fiamme Ok Adesso pensiamo Alla amichetta Mamma mia Pikachu Pikachu Abbiamo fossa Abbiamo fossa Sud di lui Ok Quindi andrei di fossa Sì sì E' il Pikachu più veloce Schermo luce Non mi ricordo Qual è quello dei due L'esistenza della squadra Avversata Va bene va bene Tanto noi stiamo andando di fossa Che fisica Ok buono Adesso Schermo luce Di nuovo Non mi vuole neanche Di fare due volte Possa Sbam Oh Mush Un po' di soddisfazione Oh Ed era l'unico Volume che aveva Quindi abbiamo vinto già Magimite Va benissimo E' tipo acciaio Quindi Non ce la fiamme E te continui a farmi quiz A me non entreranno mai in testa Le debolezze Dei pokemon Perché effettivamente Lui è acciaio E quindi l'acciaio Lo fondi con il fuoco Adesso Noi non possiamo andare a sinistra Perché ci sta La guardia Che ci blocca Che vuole il tè Ah è vero Quindi passeremo Di nuovo sotto Qua c'è un altro tunnel Sotterraneo Qua Sì sì Quindi ragazzi Ci vediamo dall'altro lato Ma qua sotto Naturalmente Come al solito Si possono trovare pepite Altri strumenti Ma perché sei tornata indietro Perché mi sono sbagliata Ci possono trovare pepite Altri strumenti Però Schippiamo questa parte Ci vediamo dall'altro lato Ok Siamo usciti fuori Finalmente Dal percorso sotterraneo Dalla via sotterranea Ok Ci manca l'ultimo percorsino Ma penso non ci siano Neanche allenatori qua Uno Ce n'è uno Noi che ci abbiamo Mushu come prima C'eravamo tolti Mushu Sì ci siamo tolti Perché avere il pokemon Che ti segue Renderà più complicato Trovare gli oggetti Quando devi trovare gli oggetti Ma tu quante medaglie hai? Due Tre 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 Stiamo andando alla quarta Me l'ho dimenticata del sergente Quanta allenatrice? Rai Rai ciù Ok ci abbiamo Fossa Però contro Rai Non penso che Ce la facciamo Che facciamo? Quindi cambiamo Anche perché siamo metà vita Un fulmine di Rai Ci va davvero male Mettiamo Matilda Che è immune Oh Riri Tra l'altra cosa C'è morta Quindi speriamo che non c'è Tipo acqua, terra Dobbiamo Andare a curarla Vabbè Diciamo che se Evita di prendere Un po' di esperienza Non è Riri Quella che ci dà problemi Tanto in uno contro uno Fossa fa niente E prende due turni Attacco rapido Oh mio Dio Ci ha tolto tipo Nemmeno dieci punti vita Ci hanno tolto i nove Mi pare Una risposta È una storia potentissima Attacco rapido Non ci può far niente Di mani di tutto E poi un tank Di quelli belli Bella tankosa Aveva altri Sì sì In altri due Fassarola Quindi poi il 32 Duttrio Ah questo qui È un problema Perché noi siamo svantaggiati Quindi dobbiamo cambiare Anche qua E mettere E mettere L'accio per esempio Che volando Non ci dovrebbe Dar fastidio Adesso lui dovrebbe Subito Farci una mostra Di poterla Questo Duttrio Perché naturalmente Era vantaggiato Terremoto Addirittura C'è già terremoto Questo Che però Noi volando Ovviamente Ok È botta in testa Secondo me L'avevi più Sì Perché comunque È anche normale Sbigo attacco Questo è un attacco Copriità Che funziona solamente Se l'altro Giocatore L'altro pokemon L'avversario Ti sta attaccando In questo giorno Tipo che Se noi avessimo Avuto fosse Se avessimo fatto fosse Non ci avrebbe Non ci avrebbe Fatto niente Anche se avessimo Fatto Drespo Tipo Full misguardo Ok 431 E aumento Di livello Not bad Not bad Però Ma l'intern 35 Signori Sì Sì Acqua e ghiaccio Che va a coprire Quello che è Il potere Dobbiamo cambiare Perché Secondo Ci faranno Attacchi di ghiaccio Quindi ci aveva Tutti i pochi E poi andiamo Di nubbolt Andiamo Di nubbolt Perché guarda C'ha avuto Un pokemon Electro Quindi te gli metti Dentro qualcuno Che è forte Contro l'elettro Una cosa Ti ha messo Un pokemon Terra Che è forte Contro il pokemon Che potenzialmente Ha potuto mettere Contro Quello elettro Metti il volante Per contrastare Terra E lui ti mette Il ghiaccio Io andrei Proprio Dei cattiveria Sì sì Facciamoli Vedere Come si faceva Tipo la mossa Super mossa Gitando Quando si agitava Ma ti doveva dare Lui Lui Sì sì Perché mi guardi In questo modo Tipo ti voglio Uccidere Perché è quello In realtà Che vuole fare Cattissimo Ok Sei più forte Quanto pensassi Eh vabbè 5 ultra Stiamo facendo Una bella scorta Di ultra Consendo che non le possiamo Ancora comprare Vai oggetto Oggetto E così Vanno in piedi E poi fanno lo scatto Quattro zante Buono Stai di dir No 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 Ma stiamo Controliando Che qua Ci stanno Oggetti C'è un coach C'è un coach Allora Ultima sfida di oggi Dopodiché ci salutiamo Perché siamo arrivati Noi Che ci abbiamo Come davanti Muccio Muccio Vabbè ci proviamo Ci proviamo Non so spiegarti perché Ma mi piace Gli piace perché è piccolo Il percorso 7 C'è chi piace Il percorso 7 Dai La senti questa La musica E la colonna sonora Della tua sconfitta Pure poetico C'è chi è piccolo Piccolo e compatto Il percorso Esatto Mitsuiro Hanno lasciato un nome Estremamente giapponese È strano Il percorso Gli piace piccolo La strada per esempio Mi piace stretta Come si chiama Farfetch 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 Allora Va bene per noi o no Ma ci proverei a fare Non c'è grandi statistiche Ci proverei a fare Un lanciafiamma E vedere che succede Lanciafiamme tattico Una facciata Facciata Che cos'è facciata Allora facciata Vabbè mettiamo un Umbolt Facciata una mostra tipo normale Mi spiace Moshu Che paradossalmente Non ha mostrato neanche La sua vera potenza Perché raddoppia La sua potenza Se il Pokémon È effetto Da qualche stato Alterato Quindi se è paralizzato Senti Ma hai fatto rosica Ma hai fatto proprio rosica Tornare a mangiare sedano Ma non puoi mangiare Perché mi ho spacca di denti Meglio così Mi sento meglio Wigglypuff Tuff 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 E io qua ci vendrei Di cattiveria Sempre con lui Sì sì Dai Ormai ci stiamo E beh Ok Una volta che hai provato Lo sprint Boom Non puoi più farne a meno Uuu Bello dancoso E ha fatto pure Il brutto colpo Tanto Dobbiamo cambiare Pokémon Ci ha addormentato Sì sì Dobbiamo cambiare Va bene Lui è fata Quindi noi andremo Di veleno Con Filippo Dai che siamo arrivati Alla fine Devi dormire Che poi Stavo dormendo Ma è tornato dietro a piedi Vabbè E sonnambulo Facciata Forse ci dà facciata Allora Vabbè Brutto colpo Ok Lotta Velen puntura Velen puntura Vai vai Sparagli tutto Super efficace Una pina Ragazzi siamo arrivati Ragazzi siamo arrivati Alla fine Abbiamo bella massacrata Sta squadra Sto partita Cioè sta partita Scusate In questo game Abbastanza giusti Con i livelli Con il prossimo palestra Sto al 34 Non ci abbiamo molto Cioè potresti Potremmo già andare A capo palestra Secondo me ci dà facciata Perché c'è un Insegno di riconoscimento Facciata Non male Non male Abbiamo veramente Massacrato In questa puntata E Mente Triste ci porta Perdo che chi la usa Un problema di stato Mente Triste ci porta A curarci Già andando In una direzione sbagliata Ah ok A sinistra Di qua Arcanine A destra A destra A destra Abbiamo dato L'Arcanine Selvatico Signori Ok Borsa Aspetta Borsa Borsa Ultra Ball Borsa Dai la Baccampon Dai usiamo Ste Ultra Ball Però Usa Ok Va bene Borsa Prendi la Ultra Ball Ok Preparati Dai Solo che poi devi lanciare il tiro Così la ciavatta La storta E prende eccellente Però eh Perché io sono troppo parte Nel catturare di Parmon Mamma mia Dai dire eccellente Un solo colpo Pure lancio le tecniche Vabbè Lasciamo stare Ok Abbiamo Arcanine Abbiamo Arcanine Naturalmente ci devono Bisogna vedere che mosse ha No Arcanine Non ci ha mosso in prate Se lo catturi così in natura C'è l'abbracere Ah Quindi Mi Eh Vabbè Però abbiamo un Arcanine Ok Quindi dove devo andare? A sinistra Ok Mentre ci porta al centro Pokémon Io vi ricordo Di lasciare un like E un commento qui sotto Il canale è di più persone Quindi date un'occhiata A tutti gli altri contenuti Siamo al momento in otto Quindi Quindi se volete sapere Quando uscirà il prossimo episodio Quando escono altre serie Controllate tutti i nostri social Ci trovate su Facebook Instagram Twitter Telegram La programmazione esce Tutte le settimane La domenica sera Quindi non vi potete perdere niente Vi ricorderemo tutte quante uscite Stiamo anche su altri Stiamo anche in live Altrove Con Spyro Alcune volte A quanto pare anche League of Legends Stiamo comunque Espandendo Tutto quello che facciamo Detto questo Ci salutiamo Donna Trizzo E Tris Ciao Nabi Ciao 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 Grazie.